Come un elemento di risposta per uscire dalla strettoia dell'austerity e dare una prospettiva di sviluppo con un'idea che consenta di andare oltre il 3% del PIL almeno per il 50% delle spese per investimenti. Poi c'è il tema delle semplificazioni su cui in particolare io sto lavorando. Ho detto al Presidente che entro il 31 di marzo la Commissione bicamerale avrà prontato un documento conclusivo e su quello si innesterà un testo legislativo che potrà essere adottato dal Governo perché questo è il tema centrale. Poi sul lavoro e mezzogiorno abbiamo portato dei documenti legati alla staffetta generazionale che avevano già ottenuto una loro approvazione dal Parlamento. Sulla riforma fiscale sono tornato su un tema che è stato per anni un mio cavallo di battaglia e poi mi ero stufato di continuare a lanciare questo elemento del contrasto di interessi perché gli interlocutori di quegli anni non ne capivano la motivazione e quindi qui c'è un rilancio preciso per individuare la dettagliabilità al reddito di alcune tipologie di spesa attraverso un meccanismo che consenta di andare a riconoscere il doppio dell'IVA a coloro che fanno azioni di questo genere. Ovviamente Boichè deve essere autocoprente, bisogna creare delle condizioni per cui non ci sia un ammanco nell'equilibrio del bilancio pubblico bisogna prevedere che i settori sui quali c'è un'evasione più ampia possono poi essere ridotti attraverso una forma di sorteggio. Ricordo che perfino i cinesi hanno affrontato il tema dell'evasione attraverso un grattevinci legato agli scontrini fiscali. L'Italia, assieme alla Grecia, è un paese in cui il sommerso e il nero sono i campioni dell'ingiustizia sociale. Poi un tema che ho richiamato è quello del regolare lobbismo e conflitti di interesse per recuperare credibilità e attraverso investimenti. Ho detto in una battuta che il male dell'Italia è che un cittadino si ritiene forte se è portatore di conflitti di interesse. È il suo protagonismo, solo che applicato all'economia determina delle conseguenze molto negative. Da ultimo il tema della centralizzazione degli appalti nella spesa pubblica, specie quella regionale, dove ci deve essere meno discrezione, si può risparmiare almeno un 3% del PIL attraverso un'operazione che va molto oltre l'azione pur importante che sta facendo il commissario Cottarelli. Queste erano le cose perché oggi non eravamo più sull'aspetto politico. D'altro canto questo è un governo che noi consideriamo assolutamente utile per la dimensione dell'impatto anche di speranza che ha creato nel Paese ma soprattutto per il respiro di legislatura che dà pensare di fare delle riforme strutturali come l'Europa continua a chiederci. Di fronte al fatto che ogni 15 giorni ci viene richiesto quando si va a votare è evidente che è ancora un'altra occasione persa e mi è venuto da dire il Presidente poiché dal 1994 in poi i parlamenti che ci sono succeduti sono stati uno peggiore dell'altro non c'è una regola che ci impedisca di affermare che il prossimo Parlamento sarà peggiore di questo anzi la esperienza di questi anni dice che sarà sicuramente così e allora tanto vale non rischiare dire la messa con i frati che sono in campo oggi e vedere di fare una cosa seria perché il Paese non può più aspettare ma direi che la politica è arrivata al limite massimo della sua credibilità dopodiché l'accaduto diventa tragico per tutti queste sono le cose ovviamente noi insieme a Pisicchio e a Formisano abbiamo augurato al Presidente di avere successo perché mi pare che questa sia l'ultima carta come centro democratico abbiamo applaudito il risultato di ieri in Sardegna a cui abbiamo dato ancora una volta un contributo che si è arrivato determinante con il nostro 2,12% e con due consiglieri eletti che fanno il paio con lo 0,5% che alle elezioni politiche hanno consentito alla Camera dei Deputati alla maggioranza di avere il premio senza quello 0,5% ottenuto da un alleato del PD non da una corrente interna del PD ci sarebbero stati 190 deputati di quell'area lo ricordo tanto perché non mi capita spesso di fare i conti non della serba ma i conti giusti però visto che questa era l'occasione che non capiterà tutti i giorni essendo lui poi il segretario del nuovo corso perché oggi noi abbiamo parlato delle cose del governo e ci fermiamo a quelle ma a un passant ho detto guardate che se volete per il futuro pensare ad una coalizione che sia vincente nel paese dovete dimenticarvi le gioiose macchine da guerra e le autosufficienze di natura politico-parlamentare così non è noi possiamo dare un contributo da distinti e lo daremo con grande soddisfazione immaginando di servire il paese è una bella volpe Tabacci signori grazie particolare questo discorso sentiamo che intanto ci sono le domande particolare questo discorso sul prossimo Parlamento che sarà sicuramente peggiore di quello precedente quindi è meglio non andare ad elezioni però ha ricordato alcuni temi che ad esempio Renzi sicuramente non vuol fare all'inizio ma non deve tralasciare ad esempio la lotta all'evasione fiscale ha parlato della semplificazione mi viene in mente che ancora Renzi ieri non ha parlato di diritti avete sentito anche il discorso sullo sforamento del 3% magari con il 50% delle spese per investimenti da non calcolare sentiamola ancora tutti i temi giusti e accettate anche dagli altri paesi che stanno con noi in Europa bene Tabacci comunque è stato un grande critico in particolare della linea di condotta economica del ministro Tremonti è un uomo profondo nelle sue analisi adesso parlo del merito poi lui ha fatto considerazioni politiche generali sui parlamenti sul PD sulle coalizioni ma indubbiamente ha messo al centro dell'agenda temi che sono sicuramente importanti sentiamo ancora su cosa sta rispondendo bisogna avere dei meccanismi che mettendo insieme un premio di maggioranza così alto con soglie di sbaramento così elevate ha noto che è l'unico sistema al mondo che ha meccanismi di questa natura quindi occhio però oi che devono seguire al percorso di riforma istituzionale vediamo quale sarà più adatta ma qui il collega Pisicchio è vigile e attento e non mancherà di continuare a dare come voi sapete il suo contributo determinante questa dunque è una delegazione del centro democratico però